Cari amici, buonanotte. Un po' di camomilla a quest'ora ci vuole. Io voglio invitarvi in quest'angolo che si chiama appunto il travaso delle idee, proprio perché c'è un travaso di idee che tanti poeti e scrittori del secolo scorso hanno diffuso, appunto, hanno lasciato un segno indelebbi nella letteratura italiana. Stanotte io leggerò un grandissimo poeta romano, Carlo Alberto Salustri, che è conosciuto con lo pseudonimo anagrammatico di Trilussa, che era appunto un giornalista, un poeta italiano, uno scrittore italiano, però era conosciuto da tutti per le poesie in dialetto. Ho scelto una poesia molto bella, perché poi ogni poesia che scriveva lasciava poi un sottotesto, o una morale un po' fra le righe. Allora, questa poesia si chiama La Pecorella. Una povera pecora imprudente, passando un fiume spensieratamente, cascò nell'acqua e fece glu glu glu, e non si vide più. Naturalmente, tutte le compagne, saputo e fatto, corsero sul porso e incominciarono a piagne. Povera pecorella, lei che era tanto buona, lei che era tanto bella. Pure l'uomo c'hanno, ma nella furia di dimostrargli la pietà cristiana, invece di strillare povera pecora, strillò povera lana. È una bravura incredibile, Trilussa, una bravura indiscussa.